Ciao creatora, io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Guzai ASMR. Questa sera andremo a fare un fantastico make-up alla nostra amica Amber. Eccola qui, è un make-up arcobaleno, non è una mia idea, ho cercato su Google vari make-up arcobaleno, rainbow, ho preso spunto diciamo da qua e da là, da alcune foto e ho deciso poi di ricreare il mio con gli ombretti che ho e con le cose che abbiamo in casa. Allora prima di tutto andiamo a sistemare i capelli, alcuni capelli che non restano fermi perché sono un po' troppo corti, vabbè non importa, cerchiamo di farli stare più lontano possibile. Allora come prima cosa vado a detergere il viso per pulirlo da eventuale diciamo polvere per quanto riguarda Amber, però fingiamo che sia una persona. Quindi residui di make-up o pelle morta o quello che è, soprattutto residui di make-up che magari sono rimasti lì da troppo tempo. Andiamo a detergere in modo accurato. Ho deciso di farmi aiutare da Amber per questo video perché purtroppo Nora ha ancora il make-up impresso nel suo studio. Il viola è troppo, non lo so, hai visto? Mi arriva sta macchiata insomma. Dopo averle pulito il viso con l'acqua micellare vado a fare un massaggio rassodante e rilassante perché mi sembrava molto piacevole da fare. Quindi ecco, picchiettando così polpastrelli in modo molto delicato ma allo stesso tempo che si senta questo lieve tapping sulla cute. Poi andiamo anche a massaggiare in questo modo. Ecco qua. Allora, dato che non ha imperfezioni andiamo a coprire le poche macchie che ha sul viso con molta fantasia. Andiamo così a stendere proprio un velo, velo, velo molto delicato solo sulla zona interessata. Queste micro imperfezioni, queste macchie sul viso. Ma per il resto non c'è bisogno di fondotinta o correttore e altre cose. Andiamo solo insomma a picchiettare la spugnetta nelle zone interessate. anche qui sulla fronte. Bene. Ok. Andiamo gli ultimi piccoli picchiettini. Non so se si dice così. Non importa. Andiamo a stendere bene il prodotto sulla pelle. Ed ecco fatto. Ok. Perfetto. Adesso metto la base sulle palpebre per poi andare ad applicare i nostri ombretti colorati. Vado a stenderla con la stessa spugnetta, sì. Però poi noto che non ce n'è la sufficienza, quindi vi aggiungo un po'. Purtroppo gli ombretti su queste teste si assorbono e restano macchiate anche se tolgo subito il make-up subito dopo aver finito i video. Lo tolgo subito ma resta sempre un po' macchiato. Andiamo a mettere questa base che non come sulla pelle normale non verrà assorbita, quindi bisogna alla fine andarla a spalmare meglio con la spugnetta. sempre andando a picchiettare delicatamente. Vado a stenderla così in modo uniforme. Ecco fatto. Ora partiamo con l'ombretto viola e andiamo a stenderlo in modo abbastanza sfumato, diciamo, su questa parte dell'occhio e contemporaneamente poi andrò a realizzare anche l'altro occhio così andremo di pari passo con i vari colori e i vari passaggi. e ovviamente come al solito non mi è uscita poi una cosa molto simmetrica ma è tutto molto più realistico direi, come se fosse un vero occhio o due veri occhi, per meglio dire, che non sono mai simmetrici. e adesso passiamo al rosso, quindi viola, poi sfumato in rosso poi sfumiamo il rosso con l'arancione perché appunto, come ho detto all'inizio, sarà un make-up rainbow arcobaleno mi piaceva troppo l'idea e giusto con l'arrivo della primavera mi sembra perfetto aggiungiamo, abbondiamo con l'arancione perché deve sfumarsi bene tutto molto bello, mi piace molto vedo che il colore si sta prendendo, cioè si vede abbastanza visibile e adesso andiamo con il giallo il giallo non è stato molto, non è stato come mi aspettavo me lo aspettavo più carico dato l'impatto con l'arancione ma non importa, in realtà di persona era più visibile però in videocamera sembrava più tenue e poi sotto l'occhio, dopo il viola aggiungiamo il blu mi raccomando andiamo a stenderlo bene e a sfumarlo e ne aggiungere un altro po', vediamo ecco qua, aggiungiamo un altro po' e poi dopo il blu vado ad aggiungere un po' di azzurro non avendo un azzurro opaco ho scelto per forza un azzurro un po' perlato ma devo dire che non ci sta per niente male è stato un po' più complicato da applicare degli altri però non ci stava niente male, dava quel tocco in più che mancava un tocco di luce ecco e poi vado anche un po' a picchiettarlo perché era difficile da stendere ecco, vado a cercare di sistemare un po' con i guanti ho messo i guanti per essere più professionale possibile ma anche perché mi dà un'idea di igiene maggiore con i guanti bianchi e poi andiamo a mettere il verde un bel verde acido che purtroppo nel video non si nota molto vabbè, poi qui andiamo vado a stendere una parte proprio sotto la sopracciglia un po' di giallo che dà come un punto luce mi piaceva questo dettaglio diciamo così anche se in realtà non si vede tantissimo però dal vivo si notava di più e poi ho deciso di mettere anche l'eyeliner e dato che con gli ombretti avevo un po' coperto la sua naturale linea di eyeliner che avebbe tatuato e che poi strofinando e pulendola poi era andata via anche a dirlo tutta quindi sono andata a ripassargliela con un vero eyeliner cercando di fargliela il meglio possibile però sì, a me alla fine il risultato è piaciuto inizialmente sembra un po' uno schifo invece poi dopo fidati di me il risultato sarà buono e scusa sempre l'inquadratura ecco fatto e adesso qui vado ad aggiungere dei dettagli olografici delle decorazioni per il viso con della colla per ciglia finte e appunto vado a mettere uno ad uno questi brillantini olografici molto molto carini che rendono il tutto ancora più particolare molto belli guarda come brillugicano come brillano allo stesso modo vado a creare una specie di lacrima olografica che da un punto luce rende il make up molto originale un po' sopra le righe già lo era però così proprio gli diamo la botta finale molto particolare mi ha sentito particolare ecco ho messo tre pezzettini anche delle parti più piccole le vado a mettere con il dito perché mi trovavo meglio ecco qua un altro po' ed è fatto finito così sono molto soddisfatta del risultato finale fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto e fammi sapere anche se vuoi un altro make up e come lo vuoi se hai qualche idea in particolare sarebbe bello mi piacerebbe provare a riproporlo questo make up però su di me fammi sapere se l'idea ti piace magari potrei fare un video non dove mi trucco ma proprio dove indosso tra virgolette questo make up spero che appunto questo video ti abbia intrattenuta o tenuto compagnia che è un po' la stessa cosa rilassata o ispirata magari scrivimelo in un commento fammelo sapere con un mi piace io ti auguro buonanotte buon relax buon relax buon relax buon relax dormi bene buon relax buon relax ciao CREATURA